buongiorno ragazzi oggi esercizi per gli adduttori a terra il secondo gruppo primo si va ad addurre l'arto inferiore flesso poi come seconda proposta si va a eseguire ad arto inferiore teso poi per stimolare anche un altro muscolo che è il gracile si va a eseguire in flesso estensione si flette si estende questo è ottimo per stimolare anche la porzione più interna del ginocchio dopodiché si va a eseguire ad arto teso però più avanti e qui è ancora un'altra intensificazione ed esercizio grazie movimento salute alla push up